Bene ragazzi, qui Dito ci avanti con Dishonored, quindi, piano, e andiamo avanti, questo cos'è? Un vaso? Quanti vasi? Quanti anni? Di quale sta parlando sti qua? Mi stanno un po' inquietando. Allora, piccoli pedofili crescono? Dov'è che sono? Ah, sono qua sotto, ok. Dunque, io direi di essere stelte e spaccare questo! No, 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 prendi, ok, ehm, R, ok. Almeno, mi sono messo raccolto un po' di vita. Ora, dove cazzo è Soccolo? No, tu non devi stare lì. Vabbè, ci penso subito a questo qua ragazzi, ci vuole un attimo. Sali un po'. Dov'è? Dov'è? Vieni qua, su. Vieni. Oh, merda. Merda, perché ho corso? Perché mi sono messo a correre? Bravi, è stato il vento ragazzi, calma, calma, calma. Mi serve una cazzo di bottiglia, perché non posso raccogliere le pentole? Dai, che cazzata. Cioè, ci avessi una fottuta bottiglia. Ok, c'è uno qua sotto. No, merda. Ok, proprio sta arrivando qua, eh. Bastardo. Ok, aspettiamolo, aspettiamolo. Ma è qui! No, merda, com'è affatto a salvarsi? Ok, dov'è sta gente? Perché non posso più usarla a fare? Perché? Perché? Oddio, no! Ma cosa volete? Ma perché? Cos'era un bug assurdo? Dai! Ma solo perché c'hai bug? Ma cos'è? Vabbè, io non ci sto capendo più un cazzo qua. Vabbè. E' ammazzato! Che cazzo volete, venite? Tanto non posso neanche più usare i poteri! Guarda, non ho più un cazzo di cazzo! Non mi attaccava neanche più! Ma che cazzo? Dai, fatti avanti. Ah, minchia, c'è qua! Fa' puro! Ok, gli altri? Dai, dove sono gli altri? Ma perché mi sta finendo così tanto? No, merda! E mi finisce! Ah, disorientato! Non mi aggino vuoi dirlo prima! Sì, lo so, me l'avrò già detto mille volte, ragazzi. Solamente che mentre uno gioca, non ci fa neanche caso. Oddio, no! No! Sacerdote del merda! Sacerdote del merda! Spari! Ok, maledetto! Che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Scappo! Vieni qua, che ora ti ammazzo io! Vieni qua! Vieni qua! Stupido! Vieni qua! Non provarci mai più! È maleducazione! Guardate, c'ho la magia e non me la fa usare sto coglione! Ah, stupidi! Ecco, fatti un bel volo! Dove è Sokolov poi alla fine? Io, è un'ora che cerco Sokolov? Ma non ho idea di dove minchia sia. Scendiamo di qua? Scendiamo di qua e troviamo? Ah, di qua c'è una porta. Ah, questa era l'entrata normale, ok? Magari era qua Sokolov? Cos'è questo? Un ascensore? Un ascensore che non posso usare, peccato. Ah, magari di qua? Wow! Qua si stava scolpendo, eh? Guarda qua! Che incredibile! Ho, opera d'arte, ho rubato tutto! No, lo Slender è pure qua! Quindi l'avvocato, bla bla bla, il tuo diario, bla bla bla, bottiglie, minchia, ho anche il tavolo distrutto, macchina per le torture, un generatore, Sokolov! Mi sto spazientendo! Posso rubare le farfalle? No, però posso vandalizzarle. Che non è una consolazione così incredibile. Sopra? Vediamo se si può andare sopra. Perché no? Vaffanculo! Ok, sopra no, come volete voi. Di qua cosa c'è? Ah, c'è una scala però! E di qua ci devo andare per forza, porca puttana! E allora facciamo questo! Ok, andiamo! Adesso! Sokolov, ho scoperto il tuo posto segreto! Credevi di sfuggirmi, eh? Sokolov, so che se... Minchia, c'è uno davanti proprio messo a camperare, oh! E ora che faccio? Se ne va? Ok, sì! Vieni qui! Non provare nemmeno a dire chi è stato! Che è successo? Chiuditi, chiuditi, chiuditi! Perché l'ho buttato dentro di nuovo? Quanto sono i pirla! Perché c'è uno, mi sa, che mi ha sgamato! Ah no, è uno lì che ha visto la caduta ma se ne sbatte altamente! Narcotizzante! Ok, posto! Per una volta ha funzionato ragazzi! Cibo? No, pensavo fosse cibo! Eh, uh, questo è cibo! No, è un po' sacene! Ok, te però sei ancora vivo, ne? Ok, non più! Ragazzi, devo essere sicuro che non mi capino la minchia dopo! Ho troppo ansia di essere sgamato e non riesco mai qua a parlare oggi! Non voglio prendere l'ascensore perché se sarebbe troppo semplice! Però mi sa che qua c'è qualcuno! Oh, posso girarlo quante volte voglio? Mio Dio, è fighissimo! Poi, abbiamo un'antica mappa, un rimedio spirituale di Piero, la scrivania per cui mi serve una chiave, e quindi ci andiamo di qua, uno strumento demoniaco, chiamato anche pendolo, e una bottiglia gialla! Incredibile! Di cos'è questa bottiglia gialla? Ah, niente! Una bottiglia come le altre! Dov'è una guardia che voglio distrarla? Oh! Eppure la sento! Merda! Dardi, 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 dardi! No, quelli non erano dardi! Questo? Ah, qua mi posso fare, ok! Eh, dammi qua! Dammi qua! Dammi qua! Dammi qua! Dammi qua! Dammi qua! Usa! E riempiamone una! Vieni qui! Vieni qua! E ne abbiamo riempito una! Non so cosa ci serve! Che cazzo è questo? Cosa stava sventrando? Un gatto non gatto? Quelli quindi di Half-Life! Ah, no, un topo! Beh, ma fai schifo! Dov'è? Dov'è? Dove sei? Dov'è questo geniaccio che ha sentito qualcosa? Poi non mi sa neanche trovare! Raccolgo tutto qua! Guarda qua! Vabbè, ce ne andiamo magari! Non so cosa serve a riempire quegli affari là di olio di balena! Siamo a 7 minuti! Appena! E si sale! Si sale come disse... Non lo sto a dire perché sta malissimo! In unione a una terapia ad alta temperatura... So, colovo! Perché non ti droghe di meno magari? In unione è merda! In unione alla temperatura... Vaffanculo! Ok, si può salire? Forse sì, aspettate! Sì, si può! Vuole? Ok! Magari ci togliamo quindi di mezzo sto qua! Che nel frattempo ha anche cambiato posto! Ok! Va bene! Ce lo togliamo di mezzo! Vieni qui! E ti buttiamo giù! Vediamo un po' il volo! Ok! Poi saliamo di nuovo! E cerchiamo di colpire Sokolov disprovvista! Fratto sono infrangibili questi! Merda! Volevo fare entrata figa! Ma niente da fare! Questi? Questi sono addirittura di metallo! Quindi bisogna per forza entrare di qua! Ok! Sokolov! Sto venendo a prenderti! Piano! Piano! Vediamo intanto cosa c'è qua! Ho trovato una formula di Sokolov! Intanto io sto rubando i progetti tipo! Infatti c'era! Eccolo qua! C'era una runa! Cosa mi dà questa? No scusate! Vorrei le runa! Ah la runa! Ok! Mi pensavo fosse il coso dosso adesso! Cosa? C'è della musica e Sokolov! Che poi c'è lui stesso che parla ma lui non sa! Cosa? Cosa? Ah ok! Qua ci vuole me! Guarda! Questo qua! Boh! Sokolov! Ciao bello! Sto per venire a prenderti! Non mi può vedere! Sì invece! Sto per venire a prenderti! Era lì tranquillo e lui cosa? Hai un tatuaggio davvero particolare! Grazie lo so che sono figo! Posso parlarti facendo così! Mi stavo occupando lontano dalla città! Aha! Aha! Chi ti va? Piero? Quell'idiata invidio! Ma! Ma no! L'ho ti ucciso una volta! Possiamo metterci d'accordo? In video! Posso certamente offrirti più di quanto Piero potrebbe solo sognare! Eeeh... Chi sei? Che cosa che morire? Saluto! Nellisir contro la pesta! Tutto voglio! Dammi tutto! Non so come tu abbia fatto a superare le difese! Eh no! I miei segreti! Ciccini! Beh! Saremmo certo qui a parlare! E allora finiamola qua no? Ehm! Mi lascia andare! Ehm! Si vede che sei un uomo intelligente! Da che cazzo è? Boh che stavo cercando le filare! I percussioni! Tanto io sto anche leggendo tranquilli! Per una volta! Capo dell'accademia di filosofia naturale! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma c'hai un cuore! E prego! Ma cosa? Calmate amico! Tanto ho trovato un bug! Quindi... Stai calmo! Potrei terrarti in testa quando voglio! Vado! Fa! Oddio! No! No! No 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 no! Dammi... Cosa stai? Fermati! Sogolo! Fermati! Porta la tua putt... Sokolov! Stai fermo! Porca puttana Sokolov! Vabbè! Hai scelto te eh! So... Ok! Sokolov! Sokolov! Stai facendo un po'... Troppo casino eh! Ti sei calmato? Ah! Ok! C'era un salvataggio automatico comunque! Ehm... Eccolo qua! Salvataggio automatico! Vediamo se è questo! E altrimenti se non è questo devo rifarmi tutto! Comunque stop qua il video! Sì è questo! Eh... Lasciate un mi piace! Un commento! Di un'altra tefana sullo fanpage! Iscriviti qua su YouTube! Bella ragazzi! Ciao!